Sì a maggioranza alla proposta che modifica la legge regionale che tutela e valorizza il patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza. È stata una legislatura in cui noi abbiamo voluto dire con chiarezza che la Toscana è una regione antifascista, lo abbiamo fatto subito nel 2022 con la modifica dello statuto facendolo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del presidente Mattarella in uno dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana. E lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo per 570 mila euro il lavoro degli istituti storici della resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del presidente Mattarella ci hanno guidato. Il presidente Mattarella ha detto che non c'è futuro senza memoria e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. L'atto di iniziativa consigliare, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli, è passato con 26 voti favorevoli. Siamo negli 80 anni dalla liberazione e credo che cogliere questo momento per strutturare le risorse da dare agli istituti storici della resistenza sia un atto doveroso, soprattutto da parte di un ente, la regione che ha nel proprio statuto l'antifascismo. Ebbene, in Toscana gli istituti storici della resistenza, sia quello regionale che quelli provinciali, sono i custodi di questi valori, sono i custodi di tutta la documentazione che ricorda quei momenti, sono quelli che fanno ricerca, sono quelli che promuovono, oltre che custodire, la cultura dell'antifascismo, la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura della solidarietà. Ecco perché abbiamo presentato questa proposta di legge cogliendo anche l'occasione che già nella variazione di bilancio queste risorse erano state messe a disposizione per tre anni e noi abbiamo pensato invece che debbano essere strutturate proprio per favorire e consentire una migliore programmazione del lavoro da parte degli istituti. Era corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'istituto della resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della regione toscana, passano gli anni, sono 80 anni e si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa o si possa affevolire. Serve ricordare, serve sviluppare una conoscenza, serve anche vedere l'evoluzione di quello che è successo negli anni successivi, serve attualizzare quell'esperienza, quindi servono delle risorse certe e costanti che oggi il Consiglio regionale va detto a larga maggioranza ha poi sostenuto e votato e questa è una notizia bella per la Toscana e per i valori della resistenza. C'è un giudizio positivo perché ci abbiamo lavorato facendo parte io e la collega Elena Rosignoli del Comitato delle Evocazioni Storiche della regione toscana come consiglieri regionali abbiamo lavorato e abbiamo portato una mozione in Consiglio regionale che fu votata all'unanimità e che oggi viene integrata in questa modifica alla legge regionale, quindi si passa dal 40 al 60% di detrazione fiscale. Crediamo che sia un grande stimolo per cui sia i privati che le aziende possono finanziare con delle cifre le rievocazioni storiche lo possono portare in detrazione con un'erogazione liberale. Il voto d'astenzione è motivato dal fatto che non c'è metodo su questo finanziamento che è stato dato e soprattutto dobbiamo capire anche dove andranno a finire questi soldi e appunto in che modo. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno perché crediamo che il valore storico, culturale di quello che rappresentano gli istituti storici della resistenza, in particolare l'istituto storico della resistenza toscano e dell'età contemporanea perché così si chiama, perché ci sono anche delle importanti valutazioni e approfondimenti da fare su quello che rappresentano per esempio gli anni di Piombo e tutto il passaggio tra la prima e la seconda Repubblica. Però noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti appunto della resistenza e dell'età contemporanea. Per questo l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato votato dal Consiglio Comunale, dal Consiglio regionale, è stato da noi presentato e sul voto finale ci asteniamo perché noi non vogliamo fare, non l'abbiamo buttata sui vari revisionismi storici che ci sono sulla resistenza perché non crediamo che questo sia il momento, crediamo che la resistenza sia un valore di tutti e che non debba essere tirata da una parte o da un'altra. Il 25 aprile nelle piazze ci deve essere solo una bandiera che è quella della patria, quella dello Stato italiano, il tricolore. Approvata a maggioranza dal Consiglio una proposta di legge che modifica la disciplina delle autorizzazioni e vigilanza del trasporto sanitario. Un provvedimento che risponde a due obiettivi, semplificare la tipologia di trasporto sanitario autorizzabile e consentire di avere un quadro chiaro delle attività svolte dai soggetti autorizzati in base alle normative vigenti. Intanto noi con questa legge introduciamo una semplificazione sulle autorizzazioni, per cui i mezzi di primo soccorso e di soccorso avanzato avranno un'unica modalità di autorizzazione riducendo quindi da 3 a 2 le tipologie di autorizzazione che le associazioni devono realizzare. E poi nell'audizione della legge abbiamo avuto la dimostrazione di molte difficoltà nel rispettare alcuni requisiti come quella dell'età dei mezzi per una difficoltà oggettiva nel reperire mezzi o alcuni dati sui volontari, sull'età dei volontari e quindi abbiamo ritenuto, e con questa legge l'abbiamo fatto, di spostare i termini per l'attuazione del regolamento del 2021 al 31-12-2026. Quindi ci saranno due anni in più per rispettare questi requisiti, una boccata di ossigeno per le associazioni che avevano chiesto con forza questa scelta. Continuerà a svolgersi il servizio di trasporto sanitario così come è sempre stato svolto. È una legge che mira a fare una di quelle cose di cui parliamo tanto ma facciamo poco, cioè una semplificazione. È una norma di semplificazione amministrativa e di risposta a alcune esigenze dell'associazione rispetto all'attuazione, ai termini per adeguarsi a quell'impianto di regole che il regolamento del 2021 dà. Si va nella direzione corretta perché il mondo del volontariato ci chiedeva una risposta importante. Molte volte nel territorio, soprattutto dopo il Covid, si fatica a strutturare equipaggi, si fatica a trovare autisti che siano anche soccorritori e non si poteva disperdere l'esperienza di volontari che nel territorio svolgono questa attività ormai da anni. Quindi alleggerire i limiti anagrafici per consentire a persone che ancora sono nelle condizioni di farlo quel servizio, credo che sia una risposta veramente cogente, corretta, puntuale, che dà due anni di tempo in più anche per organizzarsi al mondo del volontariato. Pensate che molto volontariato nel territorio della Toscana diffusa è fatto da persone che poi sono quelle che poi di fatto se tu perdi un volontario perdi un valore straordinario. Fare il volontariato è offrire quello che più bello hai nella vita, cioè il tempo, agli altri, ma dedichi anche la tua stessa vita agli altri. Quindi è una norma che va in questa direzione, ascolta quello che appunto il mondo del volontariato fa, quello che ci chiedeva e c'è una risposta puntuale, precisa, della politica che va in quella direzione. Noi abbiamo fortemente sostenuto questa iniziativa, ci sono anche delle altre modifiche, soprattutto per quanto riguarda i mezzi e quindi credo che ci sia una buona collaborazione nella nostra regione tra il mondo del volontariato e la politica che appunto ascolta e sostiene l'iniziativa che insieme ovviamente al sistema sanitario per esempio è portatore attivo dell'esperienza del soccorso avanzato, dei mezzi di soccorso ma anche del trasporto sociale e non solo. La giudichiamo positiva, abbiamo votato a favore, è bene essere chiari, il volontariato sociale, le associazioni classiche, quelle che fanno il trasporto sanitario sono una gamba imprescindibile della sanità in generale e della sanità toscana in particolare. Se non ci fossero l'attività meritoria, in gran parte generosa, gratuita e volontaristica da parte di tanti volontari all'interno delle associazioni, noi non avremmo un sistema che non potrebbe stare in piedi perché banalmente non ci sarebbe nessuno che porta le persone all'ospedale, al pronto soccorso, che le riporta a casa dopo un'adegenza in momenti di missione. Quindi noi intanto diciamo grazie a tutto l'associazionismo e il volontariato sociale che si occupa di trasporto sanitario, diciamo grazie a tutti i volontari e le volontarie che utilizzano il loro tempo libero per un'attività di generosità e questa legge va in un certo senso a dargli una boccata di ossigeno e di respiro per un mondo associativo che è un'eccellenza e un elemento di grande grande eccellenza appunto alla nostra regione. Approvato all'unanimità l'Art Bonus, la proposta di legge che innalza il credito di imposta sull'IRAP per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Le agevolazioni fiscali passano dal 40 al 60% con un ampliamento della platea dei beneficiari in cui vengono inseriti gli studi di fattibilità propedeutici e progetti di paesaggio e le manifestazioni di rievocazione storica. Il testo della legge è stato approvato durante una seduta congiunta delle commissioni affari istituzionali e cultura. Devo dire che questo vantaggio fiscale collegato agli investimenti in campo culturale aveva già riscosso un certo successo ed è una norma ben congegnata. Con queste modifiche si vorrebbe consentire una migliore fruizione dei denari messi a disposizione dei contribuenti che vogliono usufruire di questo vantaggio sostenendo progetti culturali attraverso dei meccanismi che lo rendono più vantaggioso rispetto anche al solo finanziamento con il bonus nazionale perché la nostra legge prevede di concedere il beneficio sia a chi ha ottenuto anche il beneficio nazionale sia a chi autonomamente chiede solo il beneficio regionale. Questi due rami della legge erano tra loro non comunicanti. Con questa proposta rendiamo comunicanti due capitoli di spesa in modo che se se ne esaurisce uno si possa passare le risorse a finanziare l'altro e si innalza la percentuale del vantaggio fiscale al 60%. Poi ci sono delle novità invece di contenuto che riguardano sia i progetti finanziabili con Airbonus, sia aggiunto tutto il tema della progettualità legata al paesaggio, sia abbiamo recepito un indirizzo del Consiglio che chiedeva di inserire tra i progetti culturali finanziabili quelli inerenti il tema delle rievocazioni storiche. Con questi meccanismi di miglioramento che sono stati possibili appunto perché ci ha lavorato chi allora fu relatore della legge, cioè il collega Anselmi, abbiamo secondo noi consegnato nell'ambito degli Stati Generali della Cultura ai nostri cittadini e cittadine toscani un bel vantaggio e devo dire anche agli operatori culturali l'occasione di ottenere delle risorse per finanziare la cultura che sempre di più per noi è da considerarsi un motore di sviluppo, un elemento strategico della nostra programmazione regionale e non un centro di costo per una cosa bella, bellissima, ma che si fa solo quando le risorse avanzano. Con questa legge noi continuiamo a mandare un messaggio chiaro. Investire in cultura vuol dire investire in lavoro, investire in sviluppo del territorio e generare poi anche un indotto che è quello dei visitatori che vengono a vedere le nostre meraviglie. Cristina Giacchi ha pregevolmente governato il processo legislativo che ha composto due atti, uno a mia proposta con la firma anche della Presidente Giacchi e uno della Giunta, che sono stati ricomposti in un atto unico che è stato poi sottoposto all'Aula e che ha avuto esito unanime. Questo testimonia la serietà del lavoro ma anche l'importanza del tema. Noi siamo molto orgogliosi di far parte di un'istituzione che fu anche antesignana rispetto alla normativa nazionale sull'Art Bonus. Poi nel 2017 siamo intervenuti sulla norma allargando i beneficiari e rafforzando le agevolazioni fiscali. Con questo ulteriore intervento abbiamo rafforzato la parte regionale dell'Art Bonus aumentando al 60% l'agevolazione IRAP, era il 20% in origine, poi la portammo al 40% nel 2017 e ora la portiamo al 60% introducendo degli elementi di flessibilità sui due canali, quelli legati all'Art Bonus nazionale che è accumulabile con quello regionale e l'altro canale che è quello dei progetti che godono solo delle agevolazioni regionali. Quindi abbiamo fatto un lavoro credo serio che sconta la prova del campo della legge, cerca di superare anche alcuni limiti che la legge ha mostrato e anche questa cosa della rievocazione storica e tutta la parte della progettualità legativa al paesaggio è stata potenziata. Quindi credo che si possa essere soddisfatti, naturalmente misureremo gli effetti di questi ulteriori interventi e magari il prossimo Consiglio regionale riterrà di intervenire ulteriormente, però siamo molto soddisfatti.